Al terzo tentativo Lorani centra la salvezza battendo il Monterra per 3 a 1 nella seconda giornata del triangolare per gli ultimi posti in prima categoria. Dopo un primo tempo equilibrato, i verdi azzurri di Mario Cocconi sfruttano a meglio la superiorità numerica e le doti balistiche di un Arbao in giornata di grazia. Tra la squadra di Sandro Surgiu ora le speranze di promozione sono legate a doppio filo alle sorti di Arzachene Castelsardo in serie D. Lorani scende in campo con Deida, Zicchi, Zidda, Brundugino, Fadda, Mazzoni, Cappello, Gianni Secchi, Michele, Fadda, Arbao e Pira, Lex Antonio Atene, schiena il Monterra con Antonello Ardu, Mugheddu, Cazzeddu, Unida, Mario Ardu, Giuliano Mura, La Rosa manca a De Sì, Macei, Antonello Secchi, Arbitro manca di Sassari, temperatura estiva, locale in maglia azzurra, pantaloncini verdi, gli ospiti con la divisa a strisce rosso-blu. Primo quattro d'ora di studio poi sale in cattedra a Baos, in cunia nella difesa e scarica un sinistro che vale l'uno a zero. Appena a due minuti arriva il pareggio del Monterra, punizione di manca, Deida non trattiene e perde sì l'uno a uno è facile o facile. Il centro avanti ospite potrebbe raddoppiare poco dopo, ma stavolta il portiere di casa si riscatta respingendo l'insidia. Solita rimessa di cappello e Arbao costringe Ardu a rifugiarsi in angolo. Nella ripresa del gioco Ziki e compagni aumentano la pressione, il primo tentativo porta alla firma di Secchi, diagonale che impegna Ardu. Entra a corso e Arbao riceve subito un assist invitante, sul quale il numero 76 di Sant'Ulusurgio è attento. Dalla bandina va Secchi, ancora Arbao trova lo spazio, miracolo di Ardu, poi Ziki si fa ribattere il tiro da Mura appostato sulla linea. L'azione oranese cifra insistente e sull'altra fascia, Cappello entra a contatto con Mugheddu. L'arbitro segna il calcio di rigore. Monida esagera nella protesta e viene espulso. La riproposizione mostra l'intervento scomposto del difensore e l'eccesso di agonismo del numero 4 ospite. Dagli 11 metri Arbao mantiene la freddezza necessaria per siglare il nuovo vantaggio, il 25esimo gol stagionale. Col uomo in più Lorani si fa cogliere impreparato. Lancio di Mura per De Si che davanti a Didda calcia alle stelle la palla del 2 a 2. Il Monterra si sbilancia e su assist di Arbao l'assistente segnala un full gioco a Secchi. Anche qui la ripetizione sembra da ragione alla terna. Mura conferma di avere un ottimo piede pescando sempre De Si. La difesa oranese rischia ancora di essere perforata. La partita si chiude quando Arbao riceve la Secchi e prova a incrociare col destro. Ardu si supera ma sulla rispinta del palo Col su deposita nel sacco il 3 a 1 che significa salvezza per Lorani per il Monterra la prima categoria ancora lontana.